Dunque, il punto è questo. Se non riesci a individuare il pollo nella prima mezz'ora di gioco, allora il pollo sei tu. Nel nostro giro si dice, giocare per vivere. È come ogni altro lavoro, non rischiare mai troppo, tira via quanto basta. Il tuo scopo è vincere bene quando ti va bene. Continua a puntare finché girano le carte e se smettono di girare lascia perdere. Non buttare via i soldi per niente. Così mi sono pagato metà della retta dell'università. Una vera massaia del poker.